Dottor Fulvio Acquati, direttore Deda Elementi, che cosa significa manubrio Kronos 1? Kronos 1 è il prodotto che abbiamo studiato fin dai tempi di Lance Armstrong per i corridori per le corse a cronometro della nuova generazione che avevano capito che ci voleva una posizione piatta, una posizione assolutamente aerodinamica, molto efficace nel rilanci, nell'uscita delle curve quando il corridore deve accelerare e ha bisogno di sentire con la massima naturalezza la bicicletta. Poi questo ha portato all'evoluzione del Kronos 2, per quei corridori che anche in fase di rilancio riescono a stare più piegati ad avere una posizione più efficace, sia dal punto di vista aerodinamico, sia dal punto di vista della spinta con i muscoli della schiena. E i materiali? Questo sono biciclette da professionisti, ormai non c'è nessun materiale superiore al carbonio, come io amo dire, soltanto l'amore è più duro del carbonio. Il carbonio permette di realizzare delle strutture ad altissima resistenza, con dei pesi inimmaginabili da qualsiasi particolare metallico. Fuji significa che i costruttori italiani devono tremare? No, assolutamente. A livello culturale, che differenza c'è tra i costruttori o americani o orientali e i costruttori italiani? Questa è una bellissima domanda. Per un'azienda come Dede Elementi, che fa parte della storia italiana, ma che è affacciata su tutti i mercati mondiali, noi esportiamo l'80% della nostra produzione, è stato interessante, vorrei dire avvincente, incominciare a lavorare con gli americani, perché hanno un approccio ovviamente diverso da quello italiano. Gli americani sono molto scientifici, sono molto mirati ai numeri, gli italiani sono molto legati alla tradizione, all'attenzione, a quel rapporto personale che c'è tra un grande costruttore di biciclette e il corridore. Quando il corridore riesce a trasmettergli delle sensazioni con le parole di come va la bici, il costruttore riesce sempre a fare qualcosa di meglio. E la differenza tra l'approccio Dede Elementi con l'Oriente e l'approccio Dede Elementi con i Made in Italy? Noi abbiamo messo nel nostro orgoglio costruire dei componenti che vanno bene per Carlo Sastre, e speriamo che gli facciano fare un bellissimo giro d'Italia, e anche per i nostri clienti, che in tutti i negozi del mondo possono comprare i prodotti Dede Elementi. Perché è nata Dede Elementi? Per la profonda passione che abbiamo, per le biciclette belle, bellissime, per le biciclette che vanno forte e che vincono. Quali componenti produce Dede Elementi oltre ai manubri, oltre agli attacchi? Oltre a questo Dede Elementi produce ovviamente tutto il materiale per le prove cronometro e per il triathlon, produce anche una splendida pedivella e ha anche una linea di pneumatici di alto livello per le competizioni. E poi c'è il nastro, di che materiale è? L'ultimo ma importantissimo componente di una bici da corsa è il nastro manubrio, perché anche lui ha tutta una serie di caratteristiche importanti. Per esempio deve avere un ottimo grip, un'ottima presa per la mano, per esempio non deve bagnarsi, non deve assorbire l'acqua, per esempio non deve sporcarci, non deve rompersi troppo facilmente, deve essere sufficientemente elastico per poter essere tirato e posato bene, ma non deve essere troppo sottile perché altrimenti non è confortevole. Noi abbiamo una grande linea di nastri molto eleganti, questo è l'ultimo nato che si chiama Mistral, l'abbiamo chiamato in onore del vento perché è un nastro molto molto leggero e gli abbiamo dato quel tocco di eleganza della traforato come negli anni 60 che fa tanto Italia. Da quanto tempo Dede Elementi produce anche il nastro? Il nastro è nato in Dede Elementi con Lance Armstrong, perché la squadra dello US Postal non aveva uno sponsor per i nastri e ci ha chiesto, voi che fate bene i manubri, per favore fate un nastro all'altezza della vostra reputazione con i manubri. E allora abbiamo incominciato e li abbiamo fatti molto bene. Questo è il manubrio Dede Elementi Cronos, è nato dalle esperienze con Lance Armstrong, dalla US Postal e con i corridori americani, che avevano intuito che il manubrio da cronometro in forma piatta era molto più efficace per il rilancio fuori dalle curve e nei tratti più guidati. Questo qui invece è il manubrio Dede Elementi Cronos 2, nato dalle esperienze dei corridori, soprattutto europei, che riescono ad assumere delle posizioni molto più dure, molto più piegate nella prova a cronometro e quindi trovano maggior risultato con una impugnatura anche esterna più bassa. Duilio Vedovati, lei è meccanico della Geox TMC, sa di avere una grandissima responsabilità? Le responsabilità ci sono in qualunque squadra. Noi cerchiamo di dare il massimo per poter ottenere il risultato migliore. Lei è al sesto Giro d'Italia, ormai è tra i più esperti in circolazione? Beh sì, esperto, ce ne sono tanti di più esperti. Abbiamo il collega Barcella qui che è di venticinquesimo Giro d'Italia che sta facendo. Com'è il rapporto tra i meccanici Geox TMC e Dede Elementi? Beh, Dede Elementi ci dà degli ottimi componenti, noi li montiamo, i corridori sono contenti, noi cerchiamo di ottimizzare al massimo insomma il componente bicicletta. Qual è il corridore Geox TMC più esigente? Vabbè, ci sono Menchoff, Sastre che vogliono quasi sempre controllare la bici di persona, per cui sono molto molto esigenti.